In pandemia come è andata? A parte tu hai cominciato a fare cose online durante la pandemia, live e cose del genere. Disperata perché stavo ancora nella vecchia casa che era un buco proprio. Che mi dicevi che era piccola piccola. E quindi mi ha aiutato tantissimo l'idea di non sentirmi sola. Poi io ho tutti i parenti miei, io sto fissa a Milano ma tutti i parenti miei stanno a Roma. E quindi quel senso di... mi sentivo proprio sola, sola. E poi eri da sola quindi... E quindi è stato bellissimo poi non essere così sola grazie alle live. Anche se su Twitch io faccio schifo. Cioè non sono come voi. Qua ci stanno grandi professionisti. Certo, in apparenza. Dove? Non li vedo. Dove? Non li vedo. Ce n'è uno? Dittemelo che così gli chiediamo qualche consiglio. Anch'io. Non so, io di cosa si sta parlando. E poi ho cominciato a scrivere tanto. Perché poi la frustrazione la devi buttare da qualche parte. Assolutamente. La frustrazione è fondamentale però. Nessuno lo dice mai. Però è importante non sentirsi abbastanza. Non sentirsi nel giusto. Non sentirsi abbastanza. Perché quella cosa lì è almeno nella scrittura, nel caso mio. Poi ognuno poi... Certo, certo. Ma questo sai che è un punto interessante. Che io credo, ascoltando il tuo lavoro, si evince. Il fatto che tu dai un grande valore al disagio. Cioè il disagio come motore positivo. Il disagio come motore creativo. Che è una cosa che spesso dimentichiamo. E io sono pienamente d'accordo. Cioè, nel senso, sono i momenti di imbarazzo. Sono i momenti in cui sei fuori dalla tua zona di comfort. Che ti permettono di pensare in modo alternativo. Però questa cosa qua, spesso la gente non se ne rende conto. Perché siamo sempre in fuga dall'imbarazzo, dal disagio, dalla frustrazione. Hai ragionissima. Allora, la verità è questa. Che siamo in un momento storico in cui ci piace sentirci dalla parte del giusto. Nessuno ha mai torto. E non è possibile, no? L'essere umano è imperfetto, no? Un animale sociale. Poi la società è malatissima, secondo me. Come fai a sentirti sempre nel giusto? Però è come dicevamo prima, è una comfort zone, no? Il fatto di sentirsi. Le più grandi rivoluzioni della mia vita sono nate da momenti di grande dispiacere o da schiaffoni simbolici che la vita mi riservava e che mi hanno portato poi a seguire la mia strada. Ora, che sia giusto o no, io a volte benedico quegli schiaffoni. Certo. Nel mondo della musica la donna deve sempre rivestirsi di questa grandissima dignità a tutti i costi, no? Quando i miei più grandi miti erano persone che della dignità se ne facevano ben poco. Perché quando stai un po' a pezzi, tu cerchi solo di guarire in quel momento, di superare quel momento. Quindi io, non lo so, ho un attaccamento morboso per tutte le persone che, un po' interrotte, anche risolte, consapevoli di essere risolte. Perché secondo me essere consapevoli di non essere proprio a posto ti permette di migliorare la tua vita. Perché la mattina che ti svegli e dici, no, io sono perfetta così, ho fatto tutto quello che devo fare, è andato tutto bene. Non fai un passo avanti che uno, secondo me. Però è brutto da dire, perché sembra che uno non vede l'ora di prendergli schiaffi, no? Cosa è brutto? Cosa è brutto? Ma cosa è brutto? Hai appena aperto questo accogitato, ti giuro, è proprio bellissimo quello che hai detto. Anche perché, cioè tu come mi accennavi, insomma, sei cresciuta in un ambiente che è quello della borgata, di Roma, quindi insomma immagino che anche non sia stato facile, è stata una situazione particolare. Ed è fantastico che una persona che ha vissuto un certo tipo di situazione si porti dietro non la necessità di essere protetta, ma la capacità di vivere il disagio che poi fa parte dell'esistenza. Cioè noi siamo esistenzialmente disagiati. Ti racconto questo. Qualche giorno ho fatto una presentazione del libro e a una piazza, a un certo punto stavamo parlando dell'infallibilismo, cioè il fatto che viviamo in un mondo dove bisogna mostrarsi infallibili, ok? E io ho detto, noi non siamo infallibili, siamo mona. Le ho fatto dire, un'intera piazza, siamo tutti mona, ok? E in coro l'hanno fatto tutti, quindi a me piace insultare il mio pubblico, ma perché insulto me stesso prima di tutto? Però ho un grande atto di liberazione. Il fatto di rendersi conto che quel disagio lì, non è perché tu sei disagiato, ma perché siamo strutturalmente disagiati in perfetti, incompleti. Ed è una cosa molto liberatoria questa. Sì. E poi dall'altra parte abbiamo paura che mostrandoci in perfetti gli altri ci giudichino male, quindi vogliamo sempre mostrare. Io adoro le tue canzoni e il tuo lavoro per questo, perché questa cosa traspare. Meno male, guarda. No, ma traspare in maniera... Ma anche qua, nel senso anche in rotto calco il primo volume, cioè si vede, capito? parlare prima di tutto delle difficoltà, dei fallimenti, dei disagi, dell'imbarazzo. È liberatoria questa cosa qua. Diciamo, Romina Falconi, artista liberatoria. Oh, meno male. Liberatoria. Che bello. No, veramente, veramente, veramente. Veramente. Che poi è bellissimo sentirsi vincenti, no? Pagherei io per svegliarmi la mattina. Succederà tre volte l'anno che dico... Però, non lo so, secondo me, una volta, parlando con la mia psicologa, no? Perché io dico, c'ho sta sindrome dell'impostore, io ma io volevo, ma perché dottore non malevo? Cioè, io così, no? E lei mi ha detto, ma ci hai pensato mai che è la tua benzina? Cioè, è un problema fino a che non è debilitante. Quello che consideriamo problema. Fino a che non è debilitante. Non è un problema. Magari è la cosa che ci spinge ogni giorno a migliorarci. Certo. Vorremmo tutti quanti essere ricchi, ma non per fare chissà cosa, per avere la certezza di avere tutto sotto controllo e di poter fare delle certezze. Un rete di sicurezza. Esatto, quel tipo di ricchezza lì. Certo, certo. Per me la ricchezza è quando ti puoi permettere di fare una cosa all'ultimo. Sì. Non parlo di yacht, eh. Non era quella la ricchezza. Oppure, non so, no? Vorremmo essere tutti i saggi. Poi i saggi mi stanno anche un po' sulle palle, nel senso che... Oh, sì, diciamolo. I saggi ci stanno sulle palle. Posso dire perché? Vai, certo, siamo qua per questo. I saggi è quello che se l'è presa in quel posto prima di noi. Cioè, non è che è tanto diverso da noi. Sì, sì, è vero. Come fa la mia strada. È vero. È vero. E quindi è una società di saggi. Poi noi siamo la generazione, perché si può dire che siamo più o meno, no? Ah, certo. Sì, sì, sì. Noi siamo la generazione che odia le etichette, però abbiamo dato un nome a tutto. Mamma mia, sì, è vero. Cioè, noi abbiamo dato un nome a tutto. L'ho scoperto qualche giorno fa che io sono demisessuale. Demisessuale? Che vuol dire... Non vuoi scoparti Demi Moore? No, no, no. Allora mi associo. Ho sbagliato, scusa. Scusa, giuro che era un errore in totale buona fede. In buona fede. Ok, ok, perfetto. Comunque ne approfitto per ringraziare Satrum che ha regalato 10 abbonamenti. Grazie Satrum, grazie mille. Grazie anche a Ciappolignani, c'è Corrado che si è abbonato. Ciao, carissimo. Leccaculo, Corrado leccaculo. Solo perché abbiamo qualcosa fatto da te. Qua in studio. Comunque, dicevamo, demisessuale, che non è quella cosa che hai detto, che cos'è? Che, praticamente, ora te la dico molto alla soralella, come ho detto, però è quando sei attratto dalle persone che ti coinvolgono innanzitutto a livello cerebrale emotivo. Ah, che è diverso da sappio sessuale, è vero? Sì, cioè non devi essere innamorato per forza. Sì, ma anche sappio sessuale. Perché penso che ognuno di noi è sappio sessuale, a meno che siamo cinghialotti, però. No, penso, non lo so. No, no, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Magari può essere attratto fisicamente, però se poi ci sono quattro congiuntivi sbagliati e... È lì chiusura dei dubbi. Mi piace. In un'altra vita, dici. In un'altra grammatica. Mi ha conquistato con una poesia, se io potrebbi ti amerebbi. Se io potrebbi ti amerebbi, esatto, esatto. Esatto. Stiamo degenerando ed è molto bello, comunque diciamo. Però per dire, abbiamo dato un nome a tutto, a troppo, perché è vero che è importante dare il nome alle cose, però c'è stata una mattina che mi sveglio e mi sento una povera stronza. Se vuoi dire stronza? Vabbè. Si può dire quello che ti parla. No, ok. E dico, ma io non so neanche se ho fatto bene ad essere oggi qui, cioè fino a qui, ad essere arrivata fino a qui e aver fatto i sacrifici che ho fatto. E a volte benedico, no? Tutte le cose che sono capitate, anche spiacevoli. Però ecco, non riesco a sentirmi a mio agio nei panni della persona che vuole essere nel giusto. Infatti preferisco fare il paziente tipo nella vita. No, ma guarda, hai perfettamente ragione. Io questa cosa qua l'ho vissuta, io mi ricordo, intorno al 2017, quando quello che faccio anche oggi ha cominciato a funzionare. E a un certo punto mi son fermato, perché io, vabbè, ci hai conosciuto, io sono un coglione, mi diverto un casino, sparo un sacco di cazzate, io sono così, ok? E sono così di carattere. Infatti il nostro pubblico online questa cosa la sa perfettamente, al punto che spingo molte persone a disiscriversi per colpa delle mie cazzate, però a un certo punto mi son detto che questa cosa sta funzionando, io parlo di filosofia, forse devo darmi un tono, forse devo darmi un tono. E io giuro, ci ho provato, ho provato a costruire l'immagine della persona riflessiva, della persona che ci pensa, della persona che non si lascia distrarre. È durato tre giorni. Poi mi sono guardato allo specchio e ho detto, ma che cazzo stai facendo? E lì è tutto finito. E quel momento lì è stato un momento in cui ho rischiato di dare più importanza all'etichetta che gli altri davano a quello che doveva essere il mio ruolo, che non a quello che io effettivamente sono. E per fortuna non ha funzionato. Per fortuna, perché non c'è peggior inferno in cui dover soppire le tue incoerenze e i tuoi fallimenti, le tue idiosincrasie, le tue frustrazioni per piacere di più agli altri. È un inferno quello lì, è un inferno. Perciò quello che stai dicendo è importantissimo secondo me. Oddio, grazie. No, è importantissimo. Ti posso fare una domanda? Fammi una domanda. Ti voglio fare da anni. Vai. Ma è vero che tu, in un senso, sei proprio appassionato di filosofia. Se l'hai studiata, vabbè, però, nel senso, quanti hanno studiato e poi, cioè, te stai proprio avanti, avanti. Allora volevo chiederti, ma è vero che ti cambia la vita? È come vedere per la prima volta il volto di Dio? Cioè, una roba che uno dovrebbe, no? Perché rispondersi così tardi, vabbè, no, no, ti faccio prima rispondere e poi dopo te... No, vabbè, io credo che ci sia, cioè, come qualsiasi altro linguaggio, a qualcuno può cambiare la vita, ad altri invece può passare completamente di fianco, senza nessun tipo. Cioè, la filosofia è solo un altro modo con cui mettiamo in ordine delle idee. Non c'è niente di speciale nella filosofia. Non è che la filosofia sia qualcosa di basilare. Ci sono persone che non hanno mai toccato la filosofia, sono molto più sagge rispetto a grandi filosofi che si fanno passare per sapienti universali. Quindi, in realtà, credo che la filosofia, mi sono appassionato perché in qualche modo muove delle mie caratteristiche, però è perché sono fatto io così. Poi, in fin dei conti, se la filosofia diventa un modo più ricco per porsi delle domande, allora gli diventa utile. Se la filosofia viene usata per sembrare più figo degli altri, o peggio, per darsi delle risposte definitive sulla vita, allora ti fa molto, molto male. Però come qualsiasi cosa. Quindi, io non so perché la filosofia mi ha appassionato. Io so soltanto che a un certo punto ho trovato questo nome strano che era Niezke, non sapevo come cazzo si dice, si è detto, ma chi cazzo è questo? E a 14 anni ho preso in mano il primo libro di filosofia e non ci ho capito un cazzo. E quando non ci ho capito un cazzo è diventato una cosa personale. E ho detto, no, io voglio capire cosa sta dicendo questo tizio. E basta. È stata una cosa molto… Però poi ti dico, non credo che la filosofia sia una cosa che universalmente può cambiare la vita. Può anche non fregartene niente della filosofia. Puoi leggere Schopenhauer e direi, ma questo qua non poteva mica farsi i cazzi suoi. E va benissimo così, e va benissimo così. Magari troverai la tua passione con la musica. Sì, certo. La musica può avere un ruolo in alcune vite che è simile a quello della filosofia. La musica può farti vedere il volto di Dio. Anzi, ti dico di più. Per me alcuni musicisti mi hanno dato dei livelli di comprensione molto più ampi rispetto ai filosofi che ho letto. Eh dai. Sì. Non so, io sono un grande appassionato di compositori di colonne sonore. Ah, no. E c'è Max Richter, lo conosci? Madonna, sì. Per me Max Richter è… Io quando ho un momento di disordine, quando ho un momento di confusione, faccio due cose. Mi leggo Borges e mi ascolto Max Richter. E mi rimette in sesto, ok? Mi permette di dire, ok, mi rimette in equilibrio e da lì posso andare avanti. La musica per me è, sotto alcuni aspetti, anche più importante della filosofia. E' che sono un fruitore di musica, non sono un musicista come te, però è importantissimo. Credo che siano arti che vanno un po', discorsi che vanno a impattare in modi diversi, sulle diverse rite. Anche questo ha a che fare con le nostre incompletezze, ok? Tu hai delle incompletezze e la musica si incastra in un certo modo. Per altri la filosofia si incastra in un certo modo. Dovremmo accettarlo semplicemente, senza cercare di essere troppo fighi. No, però è bellissimo perché hai tratto tanto spunto, no? No, per quello ti chiedevo della… perché secondo me poi andare a fondo e essere predisposti ti permette di farti altrettante domande. E una persona finché si chiede cose, secondo me va tutto bene. Sì, sì, assolutamente. È quello che intendevo, no? Sì, sì, sì. Cioè è illuminante quella cosa lì, però non è per tutti, credo. Come ogni cosa, no? Sì, non è… No, no, credo che ogni linguaggio umano ti permette di porti più domande. Dipende come lo usi tu. Ci sono persone che usano anche la musica per, non so, chiudersi, eh. Cioè nel senso persone che usano la musica per dire ho trovato le cose definitive che mi completano. E poi si beccano il tram sui denti perché nessuno poi riesce a diventare veramente completo. Quindi ogni linguaggio, come ogni tecnologia, come ogni discorso, come ogni tipo di cultura può essere usata per ampliare le domande che ti fai? Oppure per chiuderti a riccio? Dipende da te. Per quello che dici è molto importante, cioè il fatto di sfruttare la frustrazione, il disagio. Poi tu in rotto calco di questa cosa parli perché possiamo dire che è una raccolta di disagi, ok? È una raccolta di disagi, si parla di tradimento, si parla di vendette, tutte cose negative. Ma come non parlare di queste cose? Perché mi fai sentire a disagio parlando di queste cose? In realtà è importantissimo, capito, dare voce a questi aspetti. Perché quando li chiudiamo poi in realtà continuano a farci male, ma non riusciamo mai a farci un po' di familiarità. Sei riuscita a farci un po' di familiarità con le tue ombre? Sì, io mi sto salvando, nel senso che nelle canzoni riesco ad essere quella che magari non so essere nella vita, no? Io mi sento un po' calimero e quindi ho creato questo mondo che mi permette, che ne so, sul palco di essere quella che non riesco ad essere tutti i giorni. Ma non è una maschera, perché ho dei tratti strionici, per carità, ma non è solo una questione di maschere. È proprio di, non lo so, sfogarsi bene in quel campo lì. Certo. Avrei potuto usare la pallavolo, qualsiasi altra cosa, invece lo faccio tramite le canzoni. E mi piace poi vedere nel mondo che ci sono le mode, che per carità rispetto tantissimo. Certo. E però ripeto, anche lì i miei miti sono quelli che proprio le mode se ne fregavano. Erano persone che non avevano grandi consensi, non avevano… Ma tipo miti, mi fai qualche esempio di mito, perché questo mi interessa tanto. Allora, uno che è il numero uno da sfiga, cioè scusate il senso, cioè io non auguro a nessuno quello che gli è capitato a lui, ma non gli è poi… Bach. Madonna santa, sì. Bach è diventato famoso cent'anni dopo che è morto. Cioè neanche cent'anni dopo, dalla morte cent'anni dopo, che proprio era talmente avanti. Pure lì bisogna essere attenti a essere padroni del proprio tempo, perché sennò fai la fine del loro Bach. Non essere troppo pionieri, sì. Esatto. Però questo qua faceva da famiglia, da generazioni, suonava per i ricchissimi, i nobili, eh. Ogni tanto diceva, ma guarda, io avrei scritto una cosetta, da posto posso sentire… No, che è sta cacaca. Mi cazzo vuoi. Io dicevo… Bach, capito? Oppure Van Gogh, cioè io mi innamoro di tutti questi… Di questi proprio interrotti, come trepati, come si può dire? Sì, 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 sì. Cioè, dei genti che proprio non… Non faccio minimamente il paragone, cioè, nel senso, no? No, però, capito. Però dico, ma se a me mi sono sempre piaciute le cose difficili, ma come pretendo io di essere semplice nella vita, no? Perché poi tu sei anche il frutto di quello che ti è piaciuto. Sì, 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 assolutamente. Ti vedo tanto in questa cosa. Che poi, quello che dicevi sul… cioè, alla fine, cosa ci mette più a disagio e cosa è che ci frustra di più della complessità? Cioè, quando ti guardi e dici… Cazzo, ma io non riesco mica a mettermi in ordine, non riesco ad essere perfetto come quelle cose che vedo su Instagram, su YouTube, non riesco a fare tutto quello che dicono i vincenti e via dicendo. E questa cosa ti frustra. E la tendenza a chiudere da una parte quell'aspetto che non ci piace, non ci piace perché ti mette, appunto, ti mette a disagio, ti impone di guardarti in un certo modo, è molto, molto forte. E quindi è importante, in realtà, poi, magari, io credo che sia importante prendere l'esempio di un bacco, di un Van Gogh, per vedere la diversità, poi magari senza desiderare di essere proprio dei diseredati dell'epoca, come qui. Cioè, nel senso, mamma mia! Sì, sì, esatto. No, no, Faborelli, no. Però, in generale, il punto è quello, no? Io, per esempio, e mo' faccio Marzullo, scusa. Però allora, Rick, cioè, quando è che tu hai capito si può fare? Cioè, che quello che stavi seminando, che quello che stavi seguendo per tuo destino, perché ti piaceva, è rimosso da passione. Ah, poi volevo dire una cosa, apro una parentesi. Tu hai fatto una diretta stupenda parlando di motivazioni e di moventi. Ti è piaciuta? Madonna, ma farei da tua, peccato che un'ora di cosa... Beh, c'è proprio... Peggio di The Rock, finisci, ce ne... No, è una cosa incredibile, però, ti giuro, no, ti giuro, la roba lì è stata incredibile, perché proprio mi è esploso il cervello. Ho detto, questo c'ha ragione, proprio, perché la gente fa fatica a... Il movente è la motivazione, no? Il movente è la... No, la passione, non devi aspettarti cose con la passione, devi aspettarti di stare bene, perché stai seguendo una cosa che ti piace. E vi consiglio a tutti di recuperare quella live, se non l'avete vista. Capito, capito, stronzi della mia community che non ho visto quel video, capito? Ve lo dice Romina Falconi, eh. Poi vengo ad interrogarvi. No, ti chiedo, quando è che tu, mosso da passione, ti sei messo a lavorare facendo quello che fai? Poi non è che ne fai una, te cose, te, veda, te, veda lì. Nel senso che fai, allora, i libri e poi il teatro e poi le dirette, che so... Io ne faccio una settimana, sono stressata, io non so, vabbè. Però, no, però per dire, no? Quando è che hai capito, oh Dio, si può fare? Cioè, sta cosa può diventare il... Guarda, il lavoro, ok? È successo quando veramente... Io sono arrivato a un certo punto della mia vita, io ho mollato un lavoro che avevo prima, ok, ho cominciato a fare sta roba e ho speso un sacco di tempo, inutilmente, apparentemente inutilmente, a pubblicare video, imparare i social network e via dicendo, e sono arrivato, in due anni, sono arrivato ad essere in bolletta come poche altre persone nel mondo, quindi dovevo scegliere, tipo, se pagare l'affitto o comprarmi una nuova schedina SD, quindi siamo arrivati a quel livello lì. Lì ha cominciato a funzionare perché hanno cominciato a chiamarmi per conferenze e via dicendo e lì me la sono scampata perché era proprio il momento in cui dicevo, eh, vabbè, sta roba non funziona, devo trovarmi un altro lavoro. Anzi, scusatemi, devo trovarmi un lavoro, come... Un lavoro. Un lavoro. E poi lì invece ha cominciato a funzionare, effettivamente. Però in realtà non c'è stato il momento in cui ho detto, ah, sta roba funziona. Perché in qualche modo funzionava in quanto, grazie a questa cosa, anche quando economicamente non funzionava, ho imparato un sacco di roba. Ero maturato come persona, cioè nel senso, io vedevo le mie relazioni beneficiarne, quindi vedevo che riuscivo a circondarmi di persone che erano un po' più in linea a quello che sentivo di essere, persone più interessate, perché ero io a mascherarmi di meno rispetto a prima. E quindi queste cose qua mi hanno portato di vantaggi prima di quello economico. Però io mi sono buttato veramente in modo incosciente. C'è un video bellissimo, faccio un collegamento con una cosa che ho visto qualche giorno fa, c'è un video di un bassista, io adesso sono presissimo, sto guardando un sacco di video di bassisti. C'è Dave 504 che è italiano, fa i video in inglese, 12 milioni di iscritti, ho scoperto un sacco di bassisti. Io non suono il basso, suono un po' la chitarra, ma il basso no. Però sono preso, sono intrippato a guardare questi bassisti che fanno cose assurde. E c'è questo bassista, che penso sia americano, britannico, che ha fatto un video per il milione di iscritti. E si intitola From Zero to 200.000 Hours on the Bass. 20.000. 20.000, quindi 20.000 ore di basso. E lui va in 15 anni, io ho fatto 20.000 ore sul basso, e mi sono fermato e ho detto aspetta un attimo. Ho fatto il conto, sono circa 4 ore al giorno se uno suona ogni giorno per 15 anni. Cazzo, a se tanto? Cioè 4 ore al giorno. E allora mi sono fermato e ho detto a cos'è che ho dedicato 20.000 ore nella mia vita? La risposta io ce l'ho ai libri. Insultarmi. A insultarlo. Negli ultimi due anni siamo più di 20.000 ore però. Però effettivamente ai libri, alla filosofia. Ecco allora che quello che io faccio oggi, in qualche modo, non potevo prevederlo quando ho cominciato a leggere i miei primi libri, e via dicendo. Però ha portato il suo frutto. E allora la domanda che uno si pone è a cosa dedicherò le mie prossime 20.000 ore, ok? Perché ci sono persone che dedicano migliaia di ore a Minecraft, che va benissimo, eh? Va benissimo. Però cazzo devi porti il programma. Dov'è che mi porta? Perché spendere 3-4 ore al giorno su qualcosa significa che tu stai veramente già facendo un lavoro prima che diventi un lavoro. E per me è stata questa cosa qua che mi ha fatto scattare. Cioè quando ho detto io a questa roba voglio dedicare le mie 4-5 ore al giorno. non ho problemi a farlo, mi piace. Filosofia, studio, dialogo con la comunità, sono tutte cose che mi arricchiscono. E finché mi arricchiscono continuo a farlo. Poi comincerò a suonare il basso. Certo, perché poi... Però questo è stato essenziale da capire. E ho visto questo video, ve lo consiglio, perché è molto molto bello. e secondo me porsi quella domanda lì è a cosa dedico le prossime 20.000 ore? Tu 20.000 ore della tua vita le hai dedicate a qualcosa? È il canto, la scrittura. Vedi? E oggi ne hai tratto. E posso farti una domanda? Te la faccio la domanda allora. Quanto hai fatto incazzare le persone intorno a te quando hai cominciato a fare questa cosa? Oh, madonna. Quanti ti avranno detto ma no, non ce la fa nessuno, è un sogno, tanto dovrai finire a fare la cameriera, lavapiatti, commercialista, avvocato e via dicendo. Due coglioni così ti fanno questi? Sì, ma poi sono quelli che ringrazia. Eh certo. Perché ti hanno fatto venire la cazzimba, come la chiamano a Napoli, di insistere come di ah sì, almeno ci voglio provare. Ho passato un sacco di tempo a pensare a tutto l'albero genealogico mio fino a dove potevo arrivare da ragazzina. Facevo una testa così di domande. Era una giornalista mancata da ragazzina. Era proprio... 20.000 ore di domande, quindi. 20.000 ore di domande da ragazzina. L'altra vocazione. Era proprio curiosa come una scimmia. E gran parte delle cose dei miei parenti e dei miei avi era il senso del dovere e il senso del non poter mai... Cioè hanno associato sempre il piacere ad una cosa non seria. Io vengo da generazioni di commercianti, cioè la parte di mio padre. Ok. Per cui, anzi, se aveva un supermercato prima ancora che nascessero le grandi catene, poi insomma, sempre nel commercio è stata però guai. Cioè io volevo fare musica, ero un'aliena per lui. Quindi è stato veramente il mio Vietnam. Però lo ringrazio. Perché? Quel contrasto lì è importante. Io ce l'ho avuto con mio padre. Sì? Questa cosa qua, sì. Allora, tu immagina, mio padre, piccolo professionista veneto, perché era geometra, quindi con uno studio da geometra, e io, finita l'università, comincio a fare un lavoro normale ai suoi occhi, e poi a un certo punto io voglio mollarla. Quella roba dopo quattro anni e mezzo la mollo. Tu immagina cosa ha significato dire a mio padre, guarda, io ho mollato tutta quella cosa che tu capivi e mi rimetto a fare filosofia usando internet. È stato un momento, è stato un momento di contrasto ed è stato un motore in realtà, perché diventa una sfida. Cioè, io mi ricordo sempre questa cosa qua. Io feci una litigata mostruosa con mio padre, quando, appunto, in quel periodo, quando iniziai, e io dissi, io voglio vivere di libri e scrittura. Questo è quello che voglio fare. E lui mi disse, ci rivediamo quando qualcuno ti pagherà per un libro. E lì me lo sono attaccato e ho detto, eh no, cazzo. Io non voglio tornare qua e dirgli effettivamente, no. Avevi ragione. E sono tornato e mi ricorderò sempre questa cosa qua, il primo anticipo che ho preso per un libro, che è stato per il libro di Agostini. Ho detto, ecco, ti ricordi? Ti ricordi tre anni fa? Ti ricordi? ecco qua. Visto? E lì, in realtà andava tutto bene, cioè non è stato un contrasto, era molto contento. Quella sfida, quel fastidio, quella frustrazione, è stata fondamentale. Siamo creature che vivono di contrasto, se sappiamo gestirlo, ovviamente. Perché il contrasto ti consuma anche. Oh, madonna. Ti consuma. Sì, sì. Può minarti. Però credo che bisogna, cioè, in qualche modo va affrontato un po' con coraggio il contrasto. Cioè, tu mi dai l'idea di essere una ragazza coraggiosa nel senso la frustrazione, il contrasto, il fastidio, non mi nascondo, lo affronto a viso aperto. No, no, poi sono fragile su altre mille cose, perché poi c'è questa cosa che se tu mostri le tue fragilità o racconti di un episodio magari che ti ha veramente distrutto, disossato proprio, a volte la gente fa un tutt'uno. Cioè, se sei fragile in quello sei fragile in quello. Magari sono granitica su altre cose. Certo. Ed è questa la bellezza poi del crescere, no? Di avere un basamento più solido di quanto si possa credere. Uno dovrebbe essere armonico sempre con se stesso, no? A volte non sono neanche... Cioè, c'è una cosa sola sacra ed è la cosa che ti fa star bene in quel momento per te. Però quella è quella che in quel momento ti fa alzare la mattina e avere un po' d'energia. Quindi va bene così. Assolutamente. Assolutamente. Non lo so, però se la gente... A me ogni volta capita che ogni volta che esce una canzone è un po' un giorno triste per me, perché non è più mia. Ti hanno appena regalato l'abbonamento al nostro canale. Sei abbonata a Deil Cogito, Sappilo. Che carini. E' partito l'hype trail. Grandi ragazzi. Grazie, grazie a tutti quelli che stanno sostenendo. Grazie mille. Scusa l'interruzione. Che meraviglia. Allora, no, dico, quando esce un tuo libro non hai un po' di tristezza? Quella roba lì non la puoi plasmare più, non è più tua? No, in realtà per me quando esce un mio libro dico, ho fatto. Sei serio? Sei fatto. No, il libro è una cristallizzazione di cose pensate, riflettute su cui non voglio rimetterci mano. No, da questo punto di vista no, devo dire che credo che sia molto diverso rispetto invece a un album. Però credo che sia anche legato al tipo di linguaggio. Penso, può essere. La musica è molto più magmatica rispetto invece alla pagina scritta e poi credo che cambia anche molto un romanzo da un saggio. Forse con il romanzo sentirei molto di più quella cosa là. Il saggio invece filosofico bene o male è questo. Tac. È una questione molto personale. Beccatelo e basta. Tipo la sindrome di Da Vinci. La sindrome di Da Vinci? Sì. Che lui non era capace di finire una cosa. Per lui era sempre incompleta. La sindrome di Da Vinci? guarda lo so opera e dice Per Vinci. Complimenti! Per Vinci, Rick! Sapete che avevo in mente un sacco di rime terribili che io ho evitato. La mia mente ha selezionato la rima che non ci faceva bannare da Twitch. Quindi io voglio dirla questa cosa. Ti sei impegnato. Voglio dirla. Comunque altri abbonati persi ma va bene così. Dicevamo, tu la senti invece quella cosa? Sì, io sento quella cosa e dico Dio non posso più metterci mano. Perché no? mi piace l'idea di plasmarle fino all'ultimo. Poi in realtà si ricomincia da capo e ogni volta ricomincio da capo e mi sento come se fosse al primo giorno. È bello questo, è bello. Vabbè, il saggio magari è diverso però secondo me uno scrive innanzitutto per sé. Sì. Come un salasso. perché ogni volta che ho pensato eventualmente a un ipotetico ascoltatore non riuscivo c'è proprio il blocco. No, ma come fai? Guarda, quando la gente mi chiede tu mi hai fatto la domanda prima chi è il tuo target? Ma che cazzo ne so? Cioè io ai miei eventi incontro l'ottantenne il quattordicenne il professore di filosofia quello che non ha mai letto un libro di filosofia in vita sua trovo di tutto perché io queste cose le faccio veramente per me cioè io parlo di quello che mi interessa nel modo in cui mi interessa. ho l'idea che se uno fa una cosa onesta nei propri confronti poi arriva anche all'altro. Però se io mi ponessi il problema di dire ok, che target voglio incontrare oggi? No, no, lì è in macello. Ah cazzo, che inferno! Sì, sì. Che inferno! No, fai le cose per te. Verranno fuori più autentiche, più oneste e e le farai per crescere tu. Questa è la cosa bella, no? Sì. Cioè tu dalle tue canzoni impari? Non insegni? Eh, ne impari, sì, ma da in genere sì, sì, no, ma è bellissimo poi sentirsi sempre di ogni volta è un ricominciamento, non so come si può dire. Ogni volta è un nuovo inizio, un nuovo inizio, sì, sì, no, quello è bello. Finché lo senti è la strada giusta, poi quando quella roba lì la perdi e senti che ogni volta oh cacchio, sento la fatica di fare, la fatica di ricominciare. allora lì magari devi cambiare qualcosa, devi cambiare qualcosa, però finché succede, finché senti, tipo io questi mesi qua sono stato stanchissimo, sono arrivato a volte, però avevo sempre voglia di andare là, io dicevo ah sì, andiamo a incontrare quei piccoli stronzi in chat che ci fanno ridere e che insultiamo un po' a caso. è liberatorio. E ci insultano peraltro, quindi finché senti quella cosa lì sei a posto, sei a posto, no? Prima parlavi di di quell'aspetto lì delle fragilità, perché è un tema che mi interessa tanto quello delle fragilità e dicevi quando ti rendi conto di ciò che ti rende fragile in qualche modo andiamo un po' a nasconderlo e c'è questo aspetto, non so se tu sei d'accordo, noi siamo forti su tante cose, ok? Non so, siamo competenti su quella cosa, abbiamo delle certezze, chi più chi meno e poi abbiamo un sacco di cose su cui siamo traballanti, insicuri, incerti. Se tu ti metti a nascondere quelle cose lì si vede, si vede. E quindi in qualche modo credo che uno debba affrontarle, ok? Manifestarle, dire oh ragazzi sì, queste cose traballo, sono incerto, ho paura e non c'è niente di male. Perché poi se tu non fai questo e poi non ti rendi conto che le vere incertezze, cioè quelle che proprio ti minano, che ti fanno cadere, sono quelle di cui non hai consapevolezza, cioè quelle che arrivano veramente dall'oggi al domani. C'è un romanzo che, la gente lo sa in chat, io, è il mio romanzo preferito che è Solaris di Lem. Quale? Solaris. Mai sentito. Mai sentito. In cui c'è questo psicologo che scopre di essere fragile per una cosa che pensava di aver completamente risolto nella sua vita. E a me quella roba lì è successa. Se tu però non hai il coraggio e la forza di affrontare le cose che sai renderti fragili, quando poi arriverà il tram quello grosso sui denti? Non ti ripigli più. È verissimo. Ed è per questo che mi è piaciuto il tuo approccio rotto calco, però di nuovo si vede questo, infatti sono molto curioso poi di sentire l'album quando uscirà. Quando è che esce il primo singolo? Perché è già uscito. Il primo singolo è uscito un mese fa insieme a rotto calco che è la sua ora. Poi lo ascoltiamo a fine live, lo ascoltiamo. Non possiamo farlo per YouTube. Eh, purtroppo no. Però qui su Twitch poi ce lo ascoltiamo a fine live. E poi, siccome volevo parlare di ombre psicologiche, ho detto ma lo spettro, un'ombra, si può descrivere in tre minuti di canzone? Allora ci faccio pure sopra una specie di trattato, ho fatto un misto, cioè sembra Bart dopo che ha preso una botta in testa, cioè io volevo analizzare delle cose e però farlo con lo stile data da Francesca, sai quella degli anni 90, la serie tv. E farlo però con l'aiuto anche che ne so di un'antropologa, di una psicologa che sa Monia D'Addio, Elena Nesti, amici scrittori che mi parlavano delle loro gaff in riferimento al tradimento. Mi ha messo tanto di fronte ai miei limiti perché io sono stata molto gelosa e poi sono stata gelosa di un uomo che mi faceva sentire paranoica e invece mi faceva il cesto dell'umago in testa proprio, non passavo più delle porte. Sai quelli che ti tradiscono, che sono gelosi? E poi ti fanno le pulci su ogni comportamento. Tu non puoi fare niente ma loro possono fare tutto e poi ti scopri che c'è delle corna che ciao manco il padre dei bambi. Quanti cazzotti in testa mi vengono a dare queste persone. Ne ho conosciuti, ne ho conosciuti. Sì, 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 sì. E c'avevo il sentore di Dio, ma c'è qualcosa che non va. No, no, tu sei paranoica che era terribile perché io adesso dico proprio che Dio lo fulmini, capito? Cioè non è che passa il tempo sono cresciuta, sono più... No, no, proprio il senso di maledizione è un mint ogni volta. Ma immagino, immagino, immagino. E poi il senso di vendetta. La vendetta che sta qua dentro, la storia della fragilità, Sì. Cioè la vendetta nessuno ama sentirsi vendicati, cioè tutti associano una roba disdicevole, una cosa poco carina. In realtà la vendetta è pure quella che vogliamo fare nei confronti di qualcuno che ci ha fatto un torto. È certo. La vendetta ti rende vivo, non so come dire. Sì. E mi piacciono poi tantissimo i contrasti e passare da pali in frasca, nel senso che questo primo singolo, per esempio, volevo far uscire ogni tre mesi un singolo, no? E rispettivo il rottocalco. Qua ho cominciato facendo un po' la buffona perché questa qua è una ubriaca che si accorge di avere un sacco di corna e visto che sta così male di prendere, invece di prendere, che ne so, una decisione sul da farsi della coppia, pensa innanzitutto a vendicarsi che è proprio passare dal torto pure da vittime che è una roba nel senso che però mi, ecco, mi piacciono le persone che hanno torto però in quel momento hanno ragione ad avere torto. Certo, certo. Non so se me so capita da sola però e mi piace tanto perché tutti vogliono avere ragione, tutti vogliono essere le persone della porta accanto, tutti vogliamo essere montessoriani, no? Razionali. Razionali, molti ammettere il seggiolino giusto così, cioè tutti si sentiamo superiori e io superiore non ci sono sentita mai e nel senso che anzi, mi sento sempre manchevole, no? Cioè, non abbastanza certo, non abbastanza al punto che dico madonna, se io devo cambiare un po', poi mi guardo intorno e vedo sui social magari che stanno un sacco di life coach e ti dicono guarda che se vuoi, vuoi, e io mi ero padellato in faccia, glielo giuro, perché dico ma se vuoi qualcosa che io se te raccontassi le padellate in faccia ai life coach è un sentimento che effettivamente sai che lo sento, lo sento molto anch'io. Il tram in testa che hai detto qualche giorno fa. Il tram in testa, esatto, esatto, qualche giorno fa in trasmissione del posto del tram sui denti ho detto ti deve arrivare un tram in testa, ho detto no cazzo, troppo violento, troppo violento, troppo violento. Però sì, le padellate in testa di life coach è un sentimento che condivido molto. Simboliche, sia chiaro, noi siamo dei signori. Però, 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 sentiamoci un forse, dai. Maybe. Come dicevi? Maybe. But maybe. Ma sì, sai quelli che gli piace perché loro per primi ci devono credere. Eh sì, allora ripetendo ci devono credere. E quindi, non lo so, ho scoperto sta cosa. Scusa, ora te apro sto pippone di suonato. Vai, 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 ci piacciono i pipponi. Con le prime canzoni che sono uscite prima di magari muori mi arrivavano delle confidenze allucinali. Io non è che so a Callas. No, cioè tenevo a precisare per chi se facesse la domanda. No, nel senso che ho la mia nicchia, sono molto felice di avere la mia nicchia perché avere una nicchia vuol dire che è gente che non è che ha bisogno di essere bombardata dalla mattina alla sera in radio con la tua voce. No, che ti aspetta. È gente che gli piace proprio fa lo scopritore di qualcosa di insolito, no? E quindi anche solo perché poi se tu lo puoi capire perché sei stato uno dei pionieri, no? Nel senso comunque lavori in un canale che è considerato nuovo per la massa. Certo, certo. E quando una persona ti capisce in questa condizione qua ti ha capito veramente. E già sta cosa andiamo a accennare un cero perché non è scontato questa società e siamo bombardati di roba e quindi così. Ma arrivavano queste confidenze allucinanti. Ho detto ma facciamo un centro d'ascolto perché mi hanno detto ma fammi un firmacopio e dico ma non è da mercenario il firmacopio. Ma poi chissò a Gallas. Chissò a Gallas. Dopo quattro città mi ho chiuso qua a baracca. Sì perché parliamo sai che uno deve costruirsi all'inizio ci è voluto tantissimo e ho creato questo centro d'ascolto a parte che la gente che passava diciamo ma è gratis dico certo signora che è gratis perché mi piaceva l'idea che quelli che mi seguivano per una volta fossero ascoltati dalla cantante invece di ascoltare e perché nascevano proprio delle confidenze così da lì mi è venuta l'idea dei Rotti in Cuore cioè del disco che uscirà il titolo elegantissimo Rotti in Cuore è bellissimo lo so però tanto è anche poesia vedi però e quindi ho detto vabbè ma scusa ma fammo ogni volta un'ombra pesante poi a volte qua ho fatto un po' la buffona di quell'ambriaca che se vuole vendicare ma il prossimo sarà sua sindrome dell'impostore che mi riguarda tanto certo e la sento tanto e non se ne esce però e infatti Riccato io ti volevo chiedere a te tu ti sei messo tanto in discussione e so la tua storia perché ho seguito i tuoi video su YouTube l'ho seguiti perché faccio pure degli orari un po' da metronotte quindi non è quindi ti guardi un sacco di video di notte tantissimo tantissimo perché purtroppo ho il fuso orario di Beghino perché sono ricca io purtroppo non dormo non dormo mai regà non dormo mai da quando sono da quando vado agli elementari dormo tre ore a notte ok mannaggia inferno sulla terra giuro quindi mi aiuta tantissimo essere stimolata almeno lì perché dico almeno faccio qualcosa di utile invece che sta guarda il soffitto quando ti costruisci qualcosa quando vanno tutti di qua e tu vuoi andare di là e dici io me lo voglio costruire io ho il mio posto nel mondo voglio fare qualcosa che nessuno mi potrà mai togliere quante so le insicurezze Rick mo io non so siamo diversi abbiamo background diversi però sento tante connessioni per quello ho trovato tanto importante quello che fai i messaggi che lanci però sono tantissimi i dubbi no? però a volte se ti fai divorata il dubbio no? bisogna tenere un po' di equilibrio cioè nel senso io credo che sia è fondamentale nutrirlo quel dubbio lì perché i periodi più brutti della mia vita sono quelli in cui avevo smesso di chiedermi se quello che stavo facendo era effettivamente il mio ok? perché non avevo il coraggio della risposta cioè già sapevo che non era il mio però non mi ponevo la domanda perché altrimenti la risposta mi avrebbe dovuto far mettere in discussione da lì ho imparato ho detto io ogni giorno devo chiedermi veramente in qualche modo se quello che sto facendo è il mio se mi rende soddisfatto se mi dà carburante e questa cosa vale per il lavoro per le relazioni per tutto quanto ok? poi non si può fare sempre perché sennò ti esaurisci ok? però avere l'atteggiamento di dire io devo nutrirlo quel dubbio lì poi dall'altra parte tu sai che quello che fai è sempre un salto nel buio cioè è sempre un salto nel buio negli ultimi 4-5 anni io ho fatto un sacco di salti nel buio alcuni mi sono fatto male ho sbagliato però quei 2-3 che hanno funzionato oggi mi permettono di fare quello che faccio e di darmi la libertà creativa che ho e di aver creato relazioni con persone problematiche come il mio regista ma insomma anche importanti con altri collaboratori ospiti con cui sono amicizia quindi siamo per darci conto che è un salto nel buio e per questo quello che dicevo prima siamo tutti mona ok? siamo tutti mona significa semplicemente che quando senti quella sindrome dell'impostore non è che perché uno non la mostra non la sente siamo tutti impostori siamo tutti impostori siamo tutti tutti abbiamo un grado di finzione che diventa malvagio quando vuoi convincere gli altri di essere più di quello che sei ma diventa proficuo quando fai pace con la consapevolezza che tutti stanno un po' fingendo e che tutti brancoliamo nel buio quando tutti erano di conto di questo il salto nel buio lo fai perché sai che tanto lo stanno facendo tutti ed è quello lì l'equilibrio metti in dubbio te stesso sapendo che il dubbio non è un ostacolo che ti stai mettendo ma è inevitabile è inevitabile perché senza dubbio siamo dei sassi è questo è questo e credo che sia sia una cosa importantissima e quando smetti di porti quella domanda lì quando smetti di allenarti a quel dubbio lì allora è perché stai veramente deragliando non te ne accorgi stai cercando di conservarti stai diventando un'etichetta ok quando diventi un'etichetta cioè diventi l'etichetta che gli altri vogliono darti eh lì diventa una merda lì veramente diventa una merda e quindi è questo un po' scommo è il discorso per questo che è nutrire le incoerenze ok avere grazie grazie del fumo e grazie anche a Rai da Roundy NBA abbiamo dei cestisti qua questa sera ciao cestisti per questo che nutrire il dubbio non scappare della frustrazione usare l'imbarazzo l'imbarazzo come motore creativo non puoi creare niente se non ti imbarazzi eh verissimo madonna altro daduaggio cioè veramente se non ti denuda se non hai il coraggio di denudarti un po' se non hai il coraggio di contraddire le aspettative degli altri che cazzo fai diventi la replica la replica di repliche allora fai il filosofo allora devi essere sempre vestito in un certo modo devi parlare sempre in un certo modo non puoi usare parolacce devi sembrare in un certo cioè ma che palle ma che palle e quindi è questo cioè io ci vivo male con queste cose qua e perciò vaffanculo no ma è verissimo però te sei creato la tua dimensione ed è tua ah sì sì non immagino nessuna sei mai stata invitata da un filosofo in trasmissione io vedi cazzo ecco e invece i filosofi devono invitare di più Romina Falconi porca miseria sì sì è questo è questo il punto quindi mi piace mi piace molto il tuo atteggiamento mi piace molto poi c'è anche l'atteggiamento cioè c'è anche proprio la satira fa parte di questo il grottesco i miei miti il grottesco nel dammi un altro mito grottesco dai dammi un altro mito del grottesco vabbè ogni tanto Pippo Baudo come hai detto ah sì sì sappiate che questa cosa questa cosa la voglio dire fermi tutti fermi tutti ha appena ricevuto il più grande complimento della sua vita ok il cui presente Romina Falconi prima di questa trasmissione mi ha detto che cosa che mi hai detto ho detto ah orica sei meglio di Pippo Baudo ma no o la o la ma voleva essere un complimento ma lo è ma lo è no perché lui ha una dialettica io sono tutta un po' agitata perché questi hanno due cervelli così io ando vado e lui fa ma no ma io non capisco perché a volte ma cosa sarà a volte le persone si sentono come mi hai detto che sei una persona semplicissima però a volte ci sono state delle persone che ti hanno detto ti hanno incontrato sai che non ti facevo così io ho detto guarda che è colpa della dialettica perché se c'è è una dialettica perfetta sei il meglio di Pippo Baudo Pippo Dufer hanno scritto ma come Pippo Dufer Pippo Dufer io vi querelo io vi io vi querelo Pippo Dufer però ride io vi querelo io vi querelo Rick Dubaudo Rick Dubaudo è andata così ricca a me mi dispiace tanto è andata così fratelli comunque comunque torniamo torniamo a noi dicevamo la satira miti grottesco mi hanno chiesto spesso in intervista ma tu qual è il tuo artista di riferimento si aspettano tutti in cantante anche lì ma perché dopo uno che già ci è riuscito arrivo io ma mi seguono a me seguiranno e i miei miti so Mario Monicelli Elena Vermiuller cioè quelli che del fallimento hanno fatto i protagonisti di tutte le storie possibili il grottesco è prende una tragedia e provare a riderci su che lo so che è a folle nelle canzoni sta cosa non funziona cioè è molto difficile da far capire perché il cantante che interpreta quella canzone o che l'ha scritta non importa è un po' il portavoce un po' come Miss Italia o come Miss Universo cioè tu devi soccombere un po' la tua biografia quindi non puoi di adesso te buco le rote cioè perché tu devi essere un buon esempio che dico ma scusa ma ripetiamo ma che so a Montessorio che devo educare manco figli perché devo educare no? e dice no però non è educativo ma per chi cioè io io racconto un disagio perché perché l'empatia sta mancando sempre di più perché già il pregiudizio dall'alba dei tempi c'è e va bene è una cosa che c'è anima e fa parte di noi e chi crede di non avere pregiudizi sta sbagliando perché chiunque vede una cosa insolita diversa si fa già un'idea però adesso con la distanza che in realtà è tanta quella attraverso i social no? perché tu te senti vicino ad una persona in realtà non sai nulla di lui credi di farti l'idea no? ti senti vicino quando ti pare ma insomma in realtà il giudizio poi diventa feroce e diventa feroce il giudizio perché manca un po' il gioco dell'empatia io mi sono detta ma perché non interpretare delle situazioni fallimentari del modo che uno dice ma sta cosa l'ho pensata anch'io cioè una canzone che poi uscirà in futuro sul disturbo ossessivo compulsivo io c'è una buona parte d'ossessioni più che delle compulsioni d'ossessioni sono dei pensieri ripetuti involontari ok quindi tipo Rick Duffer Pippo Baudo Rick Duffer Pippo Baudo Rick Duffer ok capito Pippo Duffer non riesco più andiamo avanti quel genio che ha inventato voglio diventare amica sua tu lo chiami genio io dico querelato invece e quindi non lo so dico ma sai che l'immagine del Vincente a me non mi è piaciuta mai io a scuola ero quella strana poi sono stata cioè sono stata la figlia quella da Citurna che si chiudeva compulsivamente ad ascoltare la canzone viardi devolti in un giorno poi ero quella che non giocava mai insieme agli altri ragazzini perché mi sentivo sempre io non sarò mai dei vostri io da ragazzina a me entrava così pessimismo solo outsider sì 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 a me Leopardi mi spiccia a casa per cui io da ragazzina ve lo giuro io da ragazzina lo so otto anni così ho rincontrato un ragazzo con cui sono cresciuta insieme e mi diceva ma perché giocavi mai ma che cazzo ti avevamo fatto non hai capito io non ero dei vostri non mi sentivo dei vostri cioè non mi sentivo non mi ma che te sentivi ma che ne so non mi sentivo e mi dispiaceva perché il meglio stava sempre dall'altra parte da strada no? certo e però la mia che te devo fare non ero proprio tanto registrata da ragazzina vabbè però oggi non stai mica registrata qualunque cosa significhi però ci sono partito da ragazzina capito? certo non è che c'è successo qualcosa perché ero proprio quindi allora scuola poi così poi ho cominciato a lavorare a 12 anni per le situazioni familiari molto difficili insomma ho messo a lavorare c'era questo amico di famiglia c'era questo ristorante mia mamma faceva la cameriera e io cantavo e dico questo lavoro è bellissimo perché se lamentano del lavoro i grandi io cantavo ho capito tu immagini una ragazzina che porta i sordi a casa però cioè per dire poi grazie a quello poi ho detto ma sai che queste canzoni ma sai che vorrei che fossero il futuro della mia vita quindi cioè io non lo so mi è sempre capitato che da una sfiga succeda una roba stupenda ma sempre così cosa bella questa quindi ho fatto tanto non lo so ma ha tanto colpito sta cosa al punto che poi mi ritrovo da non lo so i matrimoni le sagre a cantare così mi ritrovo nel mondo dello sciopisto e era pieno di regole che dico ma come uno ci ha soddisfatto finalmente accede ad una vetrina grande no tu non devi far così e un giorno mi sono svegliato ho detto allora ho fatto uscire una cosa che non mi rappresentava che mi avevano detto di far loro che mi faceva omologare io mi sono mai sentita omologata manco con quelli che mi abitavano vicino mi tocca adesso mi tocca adesso e non sta andando neanche bene quindi rischi di tornare a casa con una cosa e ti hanno pure imposto che ne manca due cioè ma che siamo matti eh certo e da lì poi con Emanuele Castro abbiamo fatto la società per quello dico e per quello che dico io può non lo so cioè a volte no ci stanno dei piccoli segnali ma non so se credete nel destino dico pure quelli che ci seguono se lo vogliamo chiamare destino intestino l'intestino sì sì io credo all'intestino quello sicuro quello sicuro però credo nel fatto che ci stanno delle cose che fino a che non le metabolizziamo dentro di noi e delle lezioni che finché non le impariamo nella vita tipo peperonata si ripropongono io credo che non è elegante da dire però è molto vero è molto vero è efficace non è sì infatti però ecco credo credo che dobbiamo molto fare attenzione alle cose che alle peperonate delle nostre vite ragazzi ragazzi qui abbiamo qui abbiamo toccato abbiamo toccato delle vette altro che borghese dobbiamo stare attenti altro che borghese quasi alle peperonate delle nostre vite questo me lo tatuo io tu ti tatui la mia ora di puntata un po' però un po' sbilanciata io invece ho questo aforismo però io l'ho già sentito in finzioni le peperonate delle nostre vite è bellissimo sono d'accordo sono d'accordo ti è capitato te devi avere un problema che a distanza allora lì dici scusa io non so l'universo se campiamo solo a sta vita se ce ne stanno non me ne frega niente perché tanto una volta cos'hai che io sono già eliminato il problema ma che cazzo te ne frega però dico a prescindere ma ci sarà un perché se certe cose proprio quelle ritornano proprio quelle che non abbiamo capito allora lì uno si deve fare due conti ci ho messo tantissimo ad essere me stessa perché la me stessa non andava mai bene Eric perché devo aver associato all'essere me stessa una cosa sbagliata in un momento cruciale non lo so sto cercando di ipotizzare ma io che ne so e quindi quella cosa là ci ho messo tantissimo però appena ho cominciato a far vedere anche il peggio di me magari muori ma non è elegante ma è bellissima magari muori però è mia e da lì sono entrate i primi ma certo perché fai le cose per te stessa fai le cose per conoscerti è assurdo però però è assurdo però incontra proprio cioè vedi perché cioè il conosci te stesso è un atto di scoperta cioè tu sei una cosa se è una cosa molto complicata ci metti una vita a scoprirla poi una volta scoperto cambia di nuovo perché poi noi siamo creature molto mutevoli però in fin dei conti e l'arte credo che sia proprio tu hai fatto l'esempio di Van Gogh Van Gogh scriveva suo fratello questa cosa bellissima lui diceva io dipingo così non perché voglio mostrarvi la realtà come la vedo ma per vedere la realtà cioè dipingo e creo uno stile perché ho bisogno io di vederla in un certo modo perché il dipinto mi cambia mi insegna e allora è questo l'atto di scoperta di sé che non è più conoscersi ma proprio scoprirsi a un certo punto io scopro e la scoperta avviene attraverso dei piccoli traumi a volte dei grandi traumi e quando il trauma è troppo grande tu finisci per nasconderlo e quando lo nascondi tu ti togli di mezzo una parte della scoperta di te stesso che è la peperonata che prima o poi arriva torna in forme orribili peraltro quando la nascondi quando la peperonata la nascondi per troppo tempo tu non vuoi meglio non chiederti è proprio una metafora perfetta quella della peperonata tu hai vita non sono mai elegante è appena prodotto un pensiero filosofico metaforico straordinario te lo dico cioè questo qua diventa un meme del nostro canale sappilo la peperonata come dicono nello spore negli anelli la peperonata come la vita è una merda dildo baggins dildo baggins la peperonata quindi no al netto di tutto questo è è proprio questo il punto che grande o piccolo il trauma che ti ha dato degli indizi su chi sei va affrontato devi guardarlo in faccia e io sono molto legato alla satira a me piace la tua musica così come quella di Immanuel perché io adoro la satira perché la satira è uno dei linguaggi più essenziali in questo perché in questa cosa noi siamo molto accomunati alcuni miei spettacoli parlano della morte ok tipo Seneca nel traffico parla della morte e io sentire le persone che ridono quando tu parli della morte ma non perché ridicolizzi la morte ma perché mostri l'atto ridicolo della morte bellissimo e quindi poi parli dell'umanità e la gente ride non perché ridicolizzi l'umanità ma perché manifesti il lato ridicolo dell'umanità e allora la risata diventa un modo per prendere più sul serio certe cose trovo trovo triste il fatto che noi in quest'epoca stiamo perdendo moltissimo il lato della risata perché oggi per quelle cose che dicevi tu per il fatto che vogliamo sentirci più sicuri vogliamo sentirci meno fragili vogliamo mostrarci più infallibili la risata è un nemico la risata è un nemico perché la risata è proprio il metodo con cui noi manifestiamo le nostre fragilità e diamo loro il peso che meritano e se tu non se tu rifiuti queste cose questo aspetto ti stai precludendo un'enorme occasione di conoscerti di scoprirti magari muori è un ha un testo meraviglioso è un testo meraviglioso perché ti dice ti dice che quella roba lì di cui hai tanta paura il fatto che tu potresti uscire di qui e morire è una roba che deve spingerti invece deve essere carburante c'è un straordinario una straordinaria lettera di Seneca all'Uccilio tanto per dirti quanto la tua musica è in linea con le cose che io amo c'è una lettera di Seneca che qualcuno ha già ascoltato perché l'ho già citata qui sul canale però è sempre bellissima in cui Seneca dice all'Uccilio quindi il maestro dice all'allievo ricordami che l'importanza il valore della vita non è su quanto si vive ma su come si vive e così devi ricordarmi tu devi ricordarmi che quando quando vado a dormire potrei non svegliarmi più quando mi sveglio ricordami che potrei non addormentarmi più quando esco ricordami che potrei non ritornare più e quando ritorno ricordami che potrei non uscire più ora detto in filosofese e però anche in modo molto molto basilare è esattamente il manifestare quanto sia ridicola l'idea di immortalità di infallibilità che noi mettiamo dietro ogni nostro gesto e la satira è l'antidoto per questa cosa qua viviamo di merda perché ci siamo convinti che le cose siano serie nel modo sbagliato sono serie le cose ma quella serietà va trattata con la risata non per ridicolizzarla ma perché quella è la dimensione che ti permette di guardarle in faccia e dire cazzo è vero è vero che potrei morire di qui a poco ed è per questo che devo spingere affrontarmi eh cavolo questa cosa qua è essenziale è essenziale magari muori è un testo filosofico da questo punto di vista dai no vabbè no ma davvero davvero non sto esagerando ma è veramente così io sto volando dopo questa frase perché ve lo giuro stai volando non proprio però vabbè vedi che non sono mai elegante io da piccola volevo fare la principessa niente posso dire che io mi immagino un mondo in cui le principesse dicono queste cose ma che mondo di merda è quello in cui le principesse devono essere sempre tutte impettate beh allora abbiamo trovato il nome della cogitata tra una peperonata e l'ovulazione mi sembra che sia molto mi sembra che sia molto molto in linea effettivamente no adoro adoro però veramente io non ho parole che te riesci ad essere profondo in un decimo di secondo e poi parlando di ovulazione accettare pure di parlare di queste cose qua in una maniera profana ma è così è così è così cioè nel senso altrimenti io di nuovo se io dovessi pormi il problema di ma cos'è che si aspetta la gente da una chiacchierata da una cogitata filosofica ma che palle ci avrei dovuto dirti per esempio tu immaginati prima della trasmissione dirti Romina mi raccomando però non si parla di ovulazioni non si non si parla di peperonate non si parla di peperonate mi raccomando tanto meno il mio pubblico intellettuale il mio pubblico intellettuale non vuol sentire parlare di peperonate che ritornano ok perché sono sensibili vogliono citazioni di Seneca ciao si si Nietzsche beh Nietzsche ce sto dentro ce stai dentro no lo amo sono agrubi io di Nietzsche sono agrubi di Nietzsche io ce l'ho sul comodino si si no lo so c'è lui c'è lui no lui è il libro no il libro c'è sul comodino così però con il baffo con la macella un po' storta anche si così esatto Nietzsche eccolo perfetto c'è Nietzsche così c'è Nietzsche così col baffo beh oddio così sembra anche un'altra persona no esatto non voglio sapere nulla no niente non voglio è bellissimo è super l'eterno ritorno della peperonata è bellissimo l'eterno ritorno della peperonata altro possibile titolo bravi ragazzi bellissimo Nietzsche sei una gruppi di Nietzsche adesso voglio sentire cosa ti è piaciuto di Nietzsche ma tutto io veramente allora l'ho scoperto con così parlò Zaratusta ok e a volte l'ho usato come libro delle risposte che dici ma sei scema completamente però quando lo prendi da qualsiasi da qualsiasi pagina quel libro lì e ogni volta imparo qualcosa di nuovo che mi rendo conto che è un bel mattone da un'amica da ride nel senso anche perché è un libro molto enigmatico quindi ma è bello per quello perché se fosse stato più chiaro secondo me non lo so e poi mi piace tantissimo lui che scrive delle sue memorie del papà che è morto poi della cosa cioè perché poi io mi innamoro quindi sei letta anche i frammenti di Nietzsche certo io sono proprio sei veramente una ultra sai che non sei lo sai che è una ultra una ultra dell'ubermensch una ultra ubermensch cazzo è cioè siamo e io che sono tuo fan sono un fan dell'ultra ubermensch mannaggia cioè ragazzi e chi segue questa live è un follower fan ultra ubermensch adesso la smetto la smetto giusto la smetto e mi piace tanto perché non era scatolabile lui cioè scatolabile nel senso ah scatolabile non lo potei mettere da nessuna cioè ah perché moriva se lo mettevi in una scatola scusate certo no no non è circostante e quindi mi piace tanto il fatto che fosse non lo so una persona estremamente illuminata e e lo amo proprio perché a parte quando racconta della sua vita lì è tutto molto chiaro però amo non lo so l'ho sempre amato in maniera viscerale pur non avendo proprio nel senso io la cosa più ho cominciato ad amare la filosofia penso non ridete breve col mondo di sofia vabbè ma tantissime persone ci mancherebbe sì vabbè però non è proprio cioè è un testo entry level che ci sta e può essere una buona introduzione senti ma mi dici qualche filosofo che tu hai detto proprio l'ho odiato odiato sì beh sono tanti davvero beh sì potrei citarti vediamo un po' vabbè ovviamente il nemico pubblico numero uno che è Hegel cioè nel senso ma beh cosa vuoi c'è nel senso adesso ci saranno tutti gli hegeliani che dicono no tu fai devi smettere di dire queste cose leggetevelo Hegel nel senso a me ha fatto male all'anima oppure vabbè ovviamente tutti gli hegeliani quindi anche non so anche Marx e via dicendo per me sono sono difficili da affrontare in tanti modi un altro filosofo poi ci sono dei filosofi che ho amato anni e anni fa e poi ho cominciato a rifiutare ok tipo i francesi di metà anni 90 tipo Derrida Deleuze Foucault che in realtà rileggo ancora però oggi insomma dopo aver maturato un po' di visioni mi dico cazzo ma hanno scritto un sacco di supercazzoli capito quindi insomma sì sono tanti sono tanti però è interessante quello che dicevi su Zaratustra interessante perché aprire un libro del genere e farsi scatenare delle domande delle riflessioni è un ottimo modo per usare un libro così perché è un libro degli enigmi e io ho usato così e adesso sicuramente qualcuno si farà una risata io ho usato così Li Ching hai parlato di Li Ching? ah certo io c'è stato un periodo allora io ho scoperto Philip Dick l'autore da cui hanno tratto Blade Runner e via dicendo autore di fantascienza e lui per un periodo della vita usava Li Ching Li Ching si utilizza o con degli steli di bambù o con delle monete tu sulla base del risultato delle monete che getti a caso hai delle parti del libro e per me è stato interessante io l'ho usato per anni Li Ching e non sto scherzando ma pensa te perché in realtà Li Ching è un interessantissimo modo per farti porre domande in modo alternativo che è un po' quello con cui si cioè si può fare così anche con lo Zaratustra ok cioè è una fuccina di domande tu hai un problema tranquillo se apri Li Ching in un certo modo non ti predirà il futuro non è quello quelli che lo usano male dicono ah Li Ching ti dice che succederà no Li Ching ti crea un enigma che ti impone di porti domande in modo diverso su quello che stai vivendo per un periodo della mia vita è stato utile è stato un po' più di un divertismo è stato proprio un modo per cercare di fare ordine su alcune cose poi poi l'ho abbandonato cioè io è là ce l'ho ho ancora le monete però è è molto bello perché di nuovo questo va a collegarsi a quello che dicevamo prima cioè utilizzare la cultura non per darsi delle risposte per dire ah ok le cose stanno così e non sappiamo un cazzo di come stanno le cose Nietzsche è meno di tutti Nietzsche ha avuto una vita di merda orello mamma mia ha avuto una vidaccia ma io amo proprio questi qua sventrati dalla vita ammi disperati c'è una passione mi piace tanto a me se non finisce in tragedia non mi ce metto nemmeno mi dispiace signora mia signora mia la tragedia faccia cazzo se fosse uno con una vita che dice ah ha avuto una botta di culo manco uno no manco uno effettivamente Nietzsche ha botti di culo poche 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 la botta di culo l'ha data il cavallo poi a Torino scusatemi scusatemi vabbè vabbè scusatemi non parliamo non parliamo delle perversioni sessuali inizia comunque dicevamo l'idea è quella di farsi scatenare delle domande non di trovare delle risposte che è un modo è un modo controintuitivo ok perché hai un problema ok mente calcolatrice dovrebbe portarti a dire ok questa è la soluzione questo può succedere quando devi far volare un aquilone o devi cazzo ne so programmare la drum machine e via dicendo sì però se devi porti il problema di dire che cazzo faccio della mia vita come sta andando la mia relazione come cresco i miei figli a che cazzo le chiedi la risposta cioè chi ti darà delle risposte il life coach che prendi a padellati però proprio quello è il punto è controintuitivo però gran parte dei nostri problemi hanno bisogno di enigmi i nostri problemi è che è molto fastidioso cioè è faticoso è faticoso però è quello è quello quindi lo zaratustra lo usi bene è la cosa che poi dici ma veramente a me guarda mi aiuta tanto e ce l'ho proprio nel comodino tipo portafortuna perché lui secondo me era un intrattabile era uno scorgiatissimo però ecco se fosse stato un preso bene un fricchettone ma mia amica scriveva scriveva nel senso non sto dicendo che bello che hai avuto una vita di merda a frederick che così siamo tutti più illuminati però sto dicendo a volte quello che magari non amiamo tanto di noi è la nostra benzina è la cosa che poi permette anche a chi sta intorno a noi di imparare tanto nici era un vecchio scoraggione questo gli hai impiduti di essere un vecchio scorreggione io lo amo vabbè a proposito di peperonate peperonata vedi che ritorna tutto e va sempre lì eterno ritorno peperonata no però è vero ogni tanto ci penso anch'io io non so mi viene in mente Kierkegaard che è uno uno dei filosofi che bene o male negli ultimi anni ho citato di più perché è stato veramente anche lui c'è questa cosa di Kierkegaard che mi fa impazzire lui era molto cristiano che era molto però lui a Copenaghen se la godeva la vita se la godeva solo che l'aveva male ora non so se sai però Kierkegaard ha scritto dei libri che sono tipo c'è il diario del seduttore e quindi lì lui parla della vita estetica quindi di questo personaggio che si gode la vita ha tante ragazze gli piace insomma l'intrattenimento e poi però dentro è vuoto ok perché cerca la felicità fuori di sé e poi ci sono le figure della vita etica invece quella insomma che segue le regole e poi c'è il cavaliere della fede che è tipo quello che fa il salto del fede mi diverte molto un fatto che Kierkegaard mentre scriveva queste cose della vita etica della cavaliere della fede andava in giro a scopare come un riccio e io me lo immagino lui me lo immagino che tipo va in giro per Copenaghen scopa 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 beve beve si diverte poi torna a casa e si mette lì tutto da solo la martoriarsi e dice oddio l'ho fatto di nuovo l'ho fatto di nuovo e si mette a scrivere e timore e tremore e fa devo smettere la sera dopo va in giro scopa 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 e torna a casa e fa no ancora cavaliere della fede e c'è questa vita tormentata c'è un libro bellissimo che se vuoi ti piacerebbe molto che è un libro di un divulgatore di filosofia che si chiama Noodleman ed è un filosofo francese e si intitola orca miseria perché te lo cerco cercami Noodleman Noodleman ah non l'uomo noodle non si scrive come l'uomo noodle 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 io non ho parole come si scrive Noodleman Ah Noodleman Noodleman Sì Camille Louron Non so libro filosofia vita di filosofi e Noodleman cerca L'esempore del Cadillac no di quest'anno quindi non credo No L'ho scritto giusto Noodleman con due N Il genio della menzogna eccolo là Il genio della menzogna Il genio della menzogna Sì sì Quel libro lì è bellissimo e ti piacerebbe perché racconta di come tanti filosofi predicassero bene razzolando male che però non è una cosa negativa No ma sta cosa che uno deve per forza se tu rappresenti nella tua vita la cosa che sei anche nell'opera ma uno l'opera la fa proprio perché nella vita è una merda e gli vuole il contrario uno si deve salvare è vero uno si deve salvare e quindi l'opera è una roba che fai perché nella vita non lo sai fa quella cosa almeno creo qualcosa che sta un po' di buono visto che io sono una merda nell'opera non è perché se era brutta meritava è stata una storia proprio brutta anche perché poi è venuto fuori che in realtà lui è stato violento per lungo tempo e poi l'ha fatto io continuo ad ascoltare le canzoni di Mardesir ma non perché io ritenga che lui meriti di essere no ma perché so che la sua opera artistica è la parte migliore e l'artista non è mai all'altezza di ciò che produce e la separazione sai si parla spesso della separazione fra opera e artista ok che detta superficialmente sembra una cosa molto discutiva però poi quando ti rendi conto che se tu sulla base del fatto che un uomo o una donna era una merda ok devi toglierti di mezzo l'opera che ha prodotto a parte che dovresti cancellare tutto quello che c'è perché da Gauguin a Velasquez tutti pezzi di merda ok tutti pezzi di merda però all'interno di quello l'arte è la parte è l'istilato migliore dell'umanità e il fatto che un assassino femminicida pezzo di merda abbia prodotto quella musica in realtà è un atto di salvezza tu immaginati quanto ci può salvare l'idea che dal dalla bassezza di quello che siamo dagli altri in cui possiamo accadere si possa trarre la poesia si possa trarre qualcosa che migliora la vita che ci fa vedere qualcosa di più per me è una cosa essenziale questa ed è molto in linea con quello che dici tu siamo delle merde rispetto alle opere che potremmo compiere ma sarebbe peggio il contrario no? cioè se fosse cioè tu immagina una persona perfetta stupenda e fa un'opera che è un po' così a me Levo non porterà mi fa piangere a maggior ragione adesso mi fa piangere ancora di più perché dico tu eri inconsapevole che avresti fatto un macello è un testo bellissimo che è incredibile ti giuro bellissimo hai ragione e quanto mi stupisce il fatto che un essere umano di merda possa fare una roba del genere ma posso fare altri esempi pensa a Céline Céline che oltretutto io lo amo Céline era un razzista era antisemita era maschilista poi c'era anche una malattia mentale piuttosto seria cazzo ho scritto alcuni romanzi che sono delle cose a me a parte che sono rimasta amare a prima pagina a bestemmione ho detto vabbè tu sei uno de noi io te amo solo così guarda un po' io manco arrivo a fine e ho già deciso che sei uno de noi perché questo arriva a bestemmione a prima pagina del viaggio al termine da notte io sfiderei chiunque ho detto questo qua è un illuminato poi ho capito poi prima mi sono folgorata con il libro poi dopo perché poi io sono un po' una nerd nel senso che succede questo che voglio sapere poi tutto delle cose delle persone e sono una feticista della dietrologia dico che cosa ti ha spinto a scrivere quella roba là e quindi mi faccio i miei viaggioni sono lì le ore sempre perché dormo a notte quindi qualcosa d'oro più fa e ho scoperto quello che dicevi te cioè che era razzista però come diceva Pasolini tu non puoi collocar un uomo al di fuori della sua storia cioè quello lì perché dipende se tutti noi nascessimo in una famiglia chiusa razzista lascia perdere che c'è internet vai a scuola ci stanno dei principi diversi rispetto a tempo fa però se tu nasci in una famiglia storta e la chiamo storta volutamente perché l'intolleranza come puoi pretende ma come pretendi di essere una persona a posto già dovrai lavorare su dei detti dovrai farti il doppio del sedere che si fanno gli altri assolutamente per avere la metà perché risulterai sempre strano perché la tua matrice non era registrata come cioè nel senso non era con tutti i crismi quello lì è venuto su in una condizione con la madre sarta che non mi ricordo ma si faceva comunque sì brutta situazione un freddo della madonna poi parigia nel senso non è proprio non lo so e io lo amo follemente e lo amo proprio perché era sbagliato come uomo e da quella da quell'uomo sbagliato sono venuto a fare alcune cose che permettono di migliorare la vita degli altri cioè l'opera artistica che sia letteraria musicale e poi anche di nuovo ci mettiamo dentro la filosofia un sacco di roba è migliore della condizione da cui l'artista parte è il distillato di quelle parti che l'artista magari neanche riesce a riconoscere cioè sono convinto che le cose che io ho visto in Morte a Credito o Viaggio al Termine di Notte sono diverse rispetto a quelle che ci voleva mettere Céline ed è questa la cosa straordinaria ed è per questo che quando poi uno invece vuole trasmettere un'immagine di sé che sia perfetta la sua opera non potrà mai essere l'altezza della sua proiezione e quindi tu avrai sempre opere mediocre avrai sempre opere che vivono del solo contesto che non possono tendere a dire qualcosa di più e l'infallibilismo il perfezionismo sono veramente una malattia veramente una malattia io amo proprio l'idea di dire pubblicamente sono un coglione sono un mona mi sbaglio su un sacco di cose dirò un sacco di cazzate ne ho dette basta sono questo lo sai anche tu e spero che nell'opera che compio io riesca ad essere migliore di quello che sono nella vita altrimenti a che cazzo serve l'arte cosa serve porca miseria abbiamo parlato di cose pazzesche ma cosa è successo ho detto ho pulato io perché no nel senso che io mi ero tutta agitata perché dico questo c'ha una dialettica questo è meglio di più pubblico no però in generale avevo paura poi ho visto un sacco di live tue c'era Paolo Nori e Emanuele Casto che quello pure è una drivella e ho detto io ma questo qua mi farò riconoscere e con la peperonata mi sono fatta riconoscere ma ci è piaciuto siamo qui per farci riconoscere benissimo siamo qui per farci riconoscere sono troppo onorata è stata veramente è stata un mega piacere fantastica sarà la prima di una lunga serie speriamo che Dio me benedica grazie peraltro adesso intanto dico a tutti quelli che stanno ascoltando in differita di guardare in descrizione perché trovate tutti i link per seguire il lavoro di Romina nel caso non la conosceste e anche per trovare il suo primo volume di rotto calco adesso perché in live andiamo ad ascoltare il singolo perché a me manca ancora a me manca ancora io non ho mica ascoltato quindi andiamo ad ascoltarlo dopodiché a chi è in live passeremo anche a rispondere a qualche domanda quindi mi raccomando non uscite io ti ringrazio tantissimo Romina è stata è stata una una di quelle cogitate un'esplosione di esplosive grazie peperonate pippo baudo ovulazioni cosa altro ragazzi quanti meme vengono fuori da qua non dimenticate mai che non è tutto noi a ciò che pensa ciao Grazie a tutti.